Ciao a tutti ragazzi e bentrovati su TCG Television dal vostro Daniel e quest'oggi proseguiamo la nostra spacchettata di Pokémon Card Game Turbo Blitz nuovissima espansione di questo nuovo blocco a quanto pare si era definito un blocco turbo che infatti introduce appunto le carte turbo le famose carte orizzontali che vi ho presentato con l'anteprima di questa espansione che ancora non sono riuscito a trovare vediamo questa volta cosa riusciremo a sbustare subito dopo la sigla Grazie a tutti eccoci tornati non perdiamo altro tempo intanto ho già tolto i blister come potete ben vedere partiamo da... partiamo da Zorak e speriamo che ce la mandi buona il nostro obiettivo dichiarato è come sempre se non l'ho già detto Mega Mewtwo Y Full Art speriamo di trovarlo anche se sono piuttosto pessimista oggi non mi sento fortunato la... cacnia non è un buon inizio sprizzi ghastly questo ci sta simpatizzando voglio un po' di trainer perchè ne ho pochissimi di questa serie Paras non vengo accontentato catturne d'altro non ho neanche un frazzo che mi servono ooooh legame mentale con Mewtwo Vanillish la reverse è di tipo acqua non comune starmi eeeeeee la rara è di tipo drago ed è un axorus bene adesso ho due axorus e neanche un frazzo proseguiamo il meglio spero con la seconda busta di Mega Mewtwo la suspans sale nella speranza di trovare qualcosa tanto poiloso e non poco poiloso come le Olo Fennekin il mio decimo Fennekin Panciam Meo Sentchun Swinab prima non comune un trainer Peso Ball l'unico che non mi serve insieme alla mappa città che era lettera del prof ooooh ah no speravo fosse l'energia speciale fuoco che non ne ho anzi una sola perché queste ha fiumi Cactun ancora mi persegui da questa carta la reversa è una comune di tipo erba ed è un cacnia e attenzione vedete la zampina qui sotto la rara è un un Doom X full art ottimo non è il Mega Mewtwo che mi aspettavo ma ci piace ci piace ci piace ci piace bene ottima sbussata per questo video è tutto io vi saluto e ci vediamo come sempre al prossimo video ciao 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 Grazie per la visione!